È stato firmato in prefettura l'accordo che riguarda il ricollocamento dei lavoratori della RSA di Villa Santa Maria. Si conclude così in maniera positiva il lavoro svolto negli ultimi mesi dal tavolo di lavoro istituito dal comune e che ha visto il costante confronto tra l'amministrazione, le organizzazioni sindacali, l'azienda USL Toscana Nord-Ovest e il Centro per l'Impiego per la ricerca delle migliori soluzioni per i lavoratori della cooperativa KCS in vista degli importanti lavori di adeguamento che dovranno essere effettuati all'immobile di Villa Santa Maria. L'accordo è stato firmato oltre che da tutti i soggetti che hanno preso parte ai lavori del tavolo anche dalle ditte che sono state contattate direttamente dall'amministrazione comunale per verificare le attuali e future possibilità di assorbire il personale. Le ditte firmatarie si impegnano quindi ad attingere dal bacino formato dagli ex operatori KCS dando precedenza alle persone con maggiore anzianità professionale e ovviamente fermi restando gli obblighi per ciascuna ditta nel dover ricollocare innanzitutto i propri dipendenti. Per noi il lavoro comincia oggi, per noi comune di Lucca, comincia oggi con le nuove quote, le nuove quote sociali che abbiamo stabilito in un numero abbastanza rilevante per poter garantire la ripresa dell'ospitalità all'interno delle case del riposto dell'RSA perché è solo unendo quote sociale e quote sanitaria che si avranno nuovi ingressi, con i nuovi ingressi si avrà nuova occupazione. E poi con la riqualificazione del personale, la riqualificazione del personale che oggi avrebbe oggettivamente meno possibilità e che invece con il processo di qualificazione potrà nuovamente assurgere nuove possibilità per poter trovare occupazione e lavoro.